Il sistema ambientale e culturale sviluppato da Conversano Comune Capofila, Polignano Amare, Mola di Bari e Rutigliano, diventano protagonisti. La fiera del turismo di Milano è una vetrina molto importante per la nostra città, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lovascio. Partecipare alla BICT, da protagonisti, non può che rendere onore al lavoro che è stato svolto fino a questo momento e che ha portato alla premiazione del progetto Sac Mari tra le mura, nel blu dipinto di Puglia. Con la nostra presenza a Milano, intendiamo rendere ancor più protagonista la nostra bella Conversano che ha tutte le potenzialità per diventare un centro di riferimento turistico per l'intero territorio. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!